C'è un'intera isola piena di talenti incompresi. Sì, darò una lezione a predi, formerò una squadra tutta mia. Una piena di teppisti che non vedono l'ora di sbattere a terra un re. Come ti vengono in mente queste idee, Lenny? Sembra che tu stia sveglio tutta la notte per pianificare e per tramare, è incredibile. Non vorrei mai essere un tuo nemico.